Il Reggio Emilia schiera Farolini, Gennari, Paletta, Ferrari, Caminati, Brink, Daupi, De Vodier, Dell'Acqua, Perrone, Duprez, Visaggi, Celona, Manghi e Lanzano. Petrarca, formazione di casa, risponde con Menniti, Polito, Fadalti, Ragusi, Bacchin, Rossi, Nicora, Francescato, Micheletto, Conforti, Capitano, Targa, Salvetti, Flammini, Rossetto, Marchetto e Acosta. L'incontro è appena iniziato, sono le prime fasi, il Reggio Emilia sta risalendo il campo dopo che la palla era stata ricevuta dal Petrarca e successivamente calciata. Vediamo Reggio Emilia che cerca di aprire il gioco sulla sinistra, punto d'incontro, cambio di senso, buona penetrazione con il numero 4, Visaggi, che trova lo spazio per servire un compagno in offload, contro Rack del Petrarca che preme, preme e la palla schizza fuori, se ne avventa Marchetto sull'ovale, Bacchino la prende ma arriva Francescato che prosegue con un calcio a seguire, vediamo, finisce in area, finisce in area e viene annullato. Reggio Emilia che sventa questa prima occasione del match a favore del Petrarca. Raccontiamo un po' di come arrivano queste due squadre alla sfida, valida per la quindicesima giornata di eccellenza. il Petrarca è attualmente secondo in classifica con 53 punti, a 10 lunghezze dalla Capolista, dal Calvisano, e con un margine di 7 punti sul Rovigo, terzo, e un distacco di 9 punti sul Sandonà, scusate, 19 punti sul Sandonà che è in quarta posizione. Quindi sostanzialmente play-off già acquisiti per il Petrarca che punta ad arrivare al secondo posto. Reggio Emilia invece è terz'ultimo, 23 punti, e cerca ogni occasione, ogni occasione sarà buona da qui in poi per assicurarsi la salvezza, con già un vantaggio di due punti sulla Lazio, che è penultima, e 7 punti di margine sul fanalino di coda, Lions-Piacenza. Bella penetrazione intanto di Bacchin per il Petrarca che fa vivere il gioco alla mano. Sventagliata sulla sinistra dove Rossi brucia tutti in accelerazione, converge, e fila in mezzo ai pali, un'azione stupenda da parte dell'ala sinistra del Petrarca in gran forma. Oggi, guarda caso, il Petrarca Rugby News, il giornalino pubblicato dalla società Patavina, titola Frecciarossi, ed è proprio così, Simone Rossi, ben servito da Nicora, smarcato a largo, ha bruciato il diretto avversario e poi con un cambio di passo è rientrato, spiazzando tutta la difesa del Reggio. Reggio sotto i pali e Nicora che si appresta a trasformare da posizione centrale. 7 a 0, 7 a 0 per il Petrarca dopo 5 minuti di gioco scarsi. Alla prima vera accelerata, sfruttando una bella penetrazione di Bacchin, il Petrarca ha fatto vivere la sua manovra e ha finalizzato con la velocissima ala Rossi. Nel numero 11 per il Petrarca, Simone Rossi, trasforma Maia Nicora, in mezzo alla Petrarca, 7 con il Reggio, 0. Sulla palla Brink che... Bella ricezione di Trotta intanto, scusate, di Salvetti. E Mauro avanzante del Petrarca, Bacchin lanciato nello spazio, ma subisce un bel placcaggio, bel placcaggio della difesa del Reggio. Palla Meniti Polito che accelera nel buco, braccato dagli avversari, palla che schizza indietro, ci si avventa Rossi, Petrarca che in qualche modo sistema le cose e fa ripartire l'azione. Nel buco, Marchetto, servito in off-road da Micheletto, ma perde la palla al tallonatore Petrarchino e riparte così il Reggio Emilia. Farolini in veste di mediano, serve il pacchetto di Mischia che avanza a destra, cambio di senso, c'è forse un velo tra il numero 8, De Vaudier, e infatti così è, anzi scusate, viene contestato dall'arbitro Vedovelli di Livorno la trattenuta a terra, quindi calcio di prima per il Petrarca che potrà andare in tush nella metà campo avversaria. Se ne incarica Meniti Polito che guadagna una quarantina di metri, buon calcio, bella esecuzione. Forse qualcosa meno di quanto sperato, ma il Petrarca è comunque in buona posizione per lanciare la sua manovra. Manovra, vediamo tallonatore di giornata Marchetto Giovanni, un veterano, in realtà tornato all'ovile quest'anno. Palla sventagliata fuori, dove Nicora trova Micheletto, impressionante accelerazione, Petrarca che avanza fino ai 10 metri avversari, poi Nicora si fa placcare, perde anche il pallone, bravo, bravo. Probabilmente non si vede bene il numero, dovrebbe essere il secondo centro del Reggio, Paletta che si è immolato, sventando un'occasione ottima, Micheletto aveva trovato un buco da 30 metri, bella penetrazione. Ora il Petrarca è tornato in possesso dell'ovale, Francescato lo fa vivere, Nicora fuori, Bacchin per la costa, anzi scusate Marchetto, palla di ritorno per Bacchin, rimane in campo, poi però Rossi viene portato fuori. C'era il dubbio, c'era il dubbio legittimo anche che Bacchin fosse già uscito, non cambia niente. Reggio che lancerà una tush in difesa, Enrico Manghi sulla palla. Lancio sul primo uomo, palla schizza in avanti, dovrebbe esserci... tush rimane del Reggio. L'ultimo tocco Petrarchino. Cambia, stavolta il Reggio sceglie il blocco in mezzo. sull'altissimo Duprez, sudafricano, classe 93. Avanza il pacchetto di Reggio, che imposta una Rolly Mule. Crolla il carrettino reggiano. Liberazione al piede. Rossi che accorre sulla palla spiovente, perde il controllo dell'ovalo in avanti e ci sarà Mischia. Mischia per il Reggio, sostanzialmente a centro campo. Sarà la prima mischia dell'incontro. Prima mischia dell'incontro che arriva al nono minuto. C'è stato un buon controllo della palla. D'altra parte, la giornata è magnifica, il sole e la temperatura davvero mettono voglia di correre su un prato stupendo come quello del centro Memo-Geremia. Quindi le squadre potranno controllare al meglio la palla e speriamo dare spettacolo. Questa intanto è la prima mischia. vediamo che c'è poca stabilità. Le schiene si muovono a fisarmonica. Tutto da rifare. e il giovane fischietto Livornese Vedovelli dalle sue indicazioni del caso. Scusate Angelucci. Arbitro Angelucci di Livorno. Introduzione per il Reggio che guadagna un calcio. C'è stato il braccio che gli accosta, crediamo, che ha trascinato a terra l'avversario sotto la spinta del pacchetto avversario. Passa l'esame il Reggio che fa proprio del pacchetto di mischia una delle sue armi armi migliori. Intanto Gennari giocatore che ha giocato anche a Parma. Buona Tusch per il Reggio che si trova appena fuori dai 22 Petrarchini lancio ancora su Duprez il Petrarca fa subito sucking trascinando a terra il ricevitore palla fuori dove le guardie Petrarchine sono rapidissime a disturbare l'azione Reggio comunque conserva il possesso e avanza avanza a suon di pick and go e penetrazioni sull'asse con il pacchetto palla che stavolta dovrebbe uscire fuori per Ferrari che accelera palla a Paetta Reggio vicinissimo vicinissimo alla linea di meta del Petrarca fuori gioco probabilmente da parte delle c'è in realtà la penetrazione Reggio segna Reggio risponde per le rime non si è visto bene chi chi sia l'autore della della meta probabilmente Brink dovrebbe essere Brink la mediana di apertura del Reggio l'autore della meta con cui Reggio risponde alla prima segnatura del Petrarca vedremo se Gennari riuscirà ad infilare la trasformazione che varrebbe il pareggio buona l'esecuzione buona l'esecuzione buona l'esecuzione di Gennari e il Reggio si porta in parità 7 a 7 al tredicesimo minuto di gioco bella dimostrazione di orgoglio e anche buona organizzazione da parte del Reggio che ha saputo far vivere l'azione resistendo alla pressione difensiva del Petrarca ricordiamo che in classifica ci sono 30 punti di divario tra queste due squadre che all'andata il Petrarca ha espugnato il Mirabello di Reggio 29 a 7 cogliendo anche il bonus bella ripartenza intanto di Disagi che viene però placcato e portato in tush da una parte bella l'accelerazione del giocatore sudafricano poderoso è il più esperto dei due sudafricani di seconda linea Petrarca lancia in mezzo intanto su Salvetti palla veloce per il primo centro Bacchin che cambia Mastrova una muraglia riesce a mantenere il possesso ma è lento e vedremo il Petrarca che infatti si trova a perdere la palla calcione di Reggio e fa d'alti che in qualche modo recupera e a sua volta ricalcia l'ovale il Petrarca ha comunque perso il possesso e ora deve fronteggiare un contropiede scivola scivola Farolini palla per linee esterne a Brink Daupi che fa vivere la palla col pacchetto di mischia fuori con accelerazione di Farolini ma è controllato bene Reggio non riesce ad avanzare spara a casaccio la palla c'è comunque continuità Manghi in qualche modo accelera e riesce a portare a terra l'ovale sui 40 metri Reggio che si sta avvicinando a una zona interessante ma proprio in questo momento finisce per commettere la trattenuta a terra con Gennari Gennari ravvisato in situazione fallosa dall'arbitro Angelucci calcio del Petrarca che non esce Reggio a sua volta sparacchia sparacchia su c'è una discussione tra l'arbitro e l'assistente di linea sul fatto del calcio calcio che è allora avvenuto all'interno dei 22 quindi si tratta di un calcio notevole piccolo controllo a Marchetto nel gioco che può proseguire il Reggio ha portato avanti il baricentro della gara ma il lancio è del Petrarca Marchetto sulla palla lancio su Salvetti sicura veloce fuori a Nicora con palla capitano Conforti che apre una voragine e lancia Francescato palla fuori dove però scivola Rossi gran colpo di Ragusi che fa vivere l'ovale in modo splendido Micheletto che avanza ancora c'è un tuffo probabilmente di un giocatore del Reggio ma va bene così palla ancora il Petrarca con Bacchi che accelera ma serve involontariamente un compagno avrebbe fatto meglio a trattenere la palla e farsi assistere in rack Beniti copre bene risale il campo risale il campo e aggira aggira Gennari torna verso il centro del campo dove trova lo sbarramento avversario Petrarca muove la palla velocemente molto bravo in questo caso Ragusi a servire Micheletto che è in gran giornata anche lui però anche lui però fa un erroraccio e serve Devodier Reggio che recupera la palla e la calcia con Daupi fasi concittate poco ordine tante iniziative personali ed ecco lo fa d'alti scivola avanza comunque trova viene anche cinturato al collo visibilmente e arriva puntuale Petrarca il calcio di punizione cravattino e non si fa richiamo e basta così ma è stato molto vistoso Petrarca che può scegliere se piazzare o andare in rimessa laterale si va in rimessa laterale e siamo appena all'interno dei 22 metri del Conad vedremo che schema adotterà il Petrarca in tush Micheletto come mediano di mischia vedremo la giocata servizio centrale strappata e avanzamento buon avanzamento buon avanzamento del Petrarca che guadagna metri parte dalla chiusa Francescato spettacolare Rossi però viene ben placato a terra da Caminati Targa Targa fa vivere ancora l'azione del Petrarca che si accentra palla ai tre quarti entra come un razzo Ragusi e rompe il placaggio vola vola in tuffo per segnare il centro milanese da quest'anno in forza al Petrarca è uno degli elementi stato uno dei colpi di mercato del Petrarca e ha vissuto finora una stagione a fasi alterne con una buona partenza poi un calo di rendimento degli infortuni che ne hanno un po' rallentato il passo adesso è tornato e si presenta così ben servito dal compagno Bacchin bella stretta tra i due tre quarti centro tutto neri nuova meta di nuovo in mezzo ai pali da parte del Petrarca Reggio che comunque dovrà sicuramente rivedersi rivedere il lavoro sul placaggio troppe incertezze nell'uno contro uno da parte del Reggio che per altri versi è ben disposto in campo e sta contenendo almeno nell'organizzazione nell'occupazione del campo le folate avversarie l'avete sentito dallo speaker del centro sportivo Memo Geremia Petrarca 14 Reggio Conad Reggio 7 quando siamo al ventesimo ecco la rimessa in gioco da parte di Farolini spiovente che viene recuperato da Flammini altro giocatore rientrato da poco dopo lungo infortunio patito ad inizio stagione palla che vive Petrarca non ha paura di giocare dai suoi 22 evidentemente evidentemente Cavinato ha chiesto un gioco molto offensivo c'è il pubblico che rumoreggia dice per un probabile cravattino anche in questo caso tutto buono l'azione prosegue Bachim cambia angolo e trova un corridoio centrale è assistito ma in modo tardivo riesce comunque a far vivere la palla fino a Rossi che si lancia da solo contro tre avversari arriva finalmente la sostegno Petrarca che continua con Ragusi palla fuori da Nicola con un calcetto forse troppo lungo no lo fa vivere Fadalti però c'è l'assistente che segnala l'uscita della palla non è riuscita la magia a Fadalti e neanche a Nicola palla era già aveva già oltrepassato la linea di la linea di laterale del campo e quindi sarà rimessa in gioco rimessa laterale da parte del Conadreggio che nel frattempo accusa qualche problema tempo fermo qui al Memo Geremia spazio anche al ad una bella rinfrescata con i portatori d'acqua che si affrettano a portare le borracce c'è un cambio intanto per il Reggio esce il numero 12 Matteo Ferrari e al suo posto entra il numero 22 Gabriele Azzini Azzini elemento molto giovane classe 97 ancora 19 anni palla schizza intanto il Tush il Reggio perde il controllo della palla e Rossetto avanza a suon di sportellate verso la metta palla che esce ancora stavolta è Conforti sull'ovale veloce riciclo viene braccato sotto i pali il portatore di palla Petrarchino c'è un vantaggio il Petrarca comunque vada potrà ripartire con il possesso vedremo se la palla riuscirà ad uscire si Nicola la sposta fuori calcetto di Bacchin e c'è la meta c'è la meta di Fadalti c'è la meta di Fadalti che arriva a schiacciare prima che la palla esca oltre alla linea di pallone morto e quindi bella combinazione si fanno i complimenti i due protagonisti della meta del Petrarca Bacchine e Fadalti Petrarca che aveva comunque un vantaggio sotto i pali da cui avrebbe potuto piazzare o chiamare mischia o proseguire in qualche altro modo andando in tush invece sfruttato il vantaggio e con Bacchin con un calcetto magari poco cordodosso ma efficace a servire Fadalti entra anche la bella trasformazione di Nicola non era semplice questa volta ma l'apertura neozelandese Petrarchina ci ha abituato a ottime prestazioni al piede nell'ultimo incontro con le Fiamme Oro ha chiuso con un lodevole 7 su 8 prestazione davvero importante nella vittoria del Petrarca in casa delle Fiamme Oro sabato scorso Reggio che invece viene da una sconfitta di misura a Sandonà dove comunque ha strappato un punto bonus 20 a 15 ricordiamo anche che il Reggio è riuscito nel corso del campionato a battere sia le Fiamme Oro sia il Viadana quindi squadre che si stanno giocando l'accesso ai playoff fornendo anche ottime prestazioni con Sandonà e con Mogliano un'altra delle pretendenti alle semifinali placaggio di Ragusi intanto su Farolini arriva il calcio non rotola non si toglie dopo il placaggio fallo a favore di Reggio Emilia Calcentus Gennari e Reggio avanza nel metà campo Petrarchina Lancio in fondo Ruba schiaffeggiando Conforti e Marchetto riparte in chiusa andando a incornare gli avversari buono l'avanzamento del Petrarca dopo recupero della palla Micheletto trattenuto alto ma riuscirà ad andare a terra così è Francescato che scarica a zero e calcione di Nicora buona la ricezione di Caminati Farolini che cerca un cambio d'angolo offload po' corto d'osso e Fadalti ne approfitta per far ripartire il gioco Petrarca che ha impostato l'azione ma Bacchini forse qui si sta un po' esagerando ha cercato un altro calcio per smarcare un compagno questa volta un po' velleitario il tentativo del centro del Petrarca Bacchin altro pezzo pregiato della campagna acquisti del Petrarca di quest'anno giocatore che vanta tre caps in azzurro e che ha giocato le ultime stagioni alla Benetton in Celtic League qui al Petrarca è chiamato a far tornare in alto le quotazioni della società patavina che ambisce quantomeno alla finale un obiettivo dichiarato c'è un cambio nel frattempo esce proprio Bacchin probabilmente per un risentimento muscolare al suo posto Belluco Petrarca che riparta riparte palla in mano con Micheletto affrontato senza tanti complimenti dagli avversari bella progressione Petrarchina con Conforti e Rossetto che si danno la stafetta e poi Francescato infila tutti e libera Micheletto bellissima penetrazione del Petrarca che si fa strada a suon di percussioni avanzanti e con un guizzo di Francescato trova il buco per fare male terza meta in mezzo ai pali del Petrarca e quarta complessivamente per la squadra di Padova metta di Micheletto e trasformazione di Nicola per il nuovo vantaggio Petrarchino Petrarca 28 Reggio 7 ventotesimo minuto del primo tempo la meta del numero 8 del Petrarca l'incanto Micheletto Gli applausi del centro sportivo Memo Geremia Petrarca che sta mantenendo le attese Cavinato aveva chiesto di non sottovalutare minimamente questo avversario che si era già reso pericoloso contro squadre di vertice e il Petrarca dopo aver subito la meta del pareggio ha probabilmente già chiuso i conti con altre tre mete conquistando il bonus entro entro la mezz'ora mezz'ora di gioco Petrarca che conduce con tre mete di margine partita godibile finora qui al Geremia Reggio che finta perde troppo tempo secondo l'arbitro Angelucci poca cattiva comunicazione Francescato ne approfitta per cercare di sorprendere la difesa reggiana Petrarca continua con gli avanti a percuotere Nicora cerca l'interno va Micheletto serve molto bene Belluco palla ancora viva di nuovo a Micheletto veramente uno dei protagonisti dell'incontro Conforti bello scarico ma non riesce non riesce la combinazione era stata bella l'idea avrebbe potuto far male un eventuale riciclo in quel in quel punto del campo ma va male al Petrarca qualche parola qualche consiglio dell'arbitro nei riguardi del Conadreggio che ha l'introduzione a suo favore palla introdotta da Daupi disassato a sinistra l'asse della mischia palla fuori calcio di Brink palla che ruzzola avanti Rossi riesce in qualche modo ad aggirare l'avversario avanzare qualche metro Belluco in veste di mediano ma sparacchia dietro la palla ci mette una pezza Fadalti che continua con un calcio alto che riesce a recuperare no look pass per Salvetti che accelera e fila in mezzo ai pali è una meta è una meta da applausi quella segnata dal Petrarca raramente si vedono numeri di questo tipo Fadalti ci ha abituato a varie magie questa probabilmente le supera tutte quest'anno dopo aver superato il muro difensivo avversario ha recuperato la palla sul rimbalzo servendo direttamente con un passaggio all'indietro senza guardare Salvetti che con una bella progressione ha seminato tutti gli avversari ed è così che il Petrarca segna la sua quinta meta di giornata e sale a 35 a 7 dopo appena 33 minuti di gioco non c'è storia qui al centro sportivo Geremia il divario tra le due squadre si è aperto in modo drastico negli ultimi 20 minuti il reggio aveva illuso i suoi sostenitori di poter reggere l'urto e rispondere anche per le rime al Petrarca ma la conseguente reazione petrarchina è stata impressionante bella la ricezione di Targa Petrarca che continua a giocare bene a non sbagliare poco o nulla da notare che il calcio di Fadalti è nato proprio da una palla non proprio gestita al meglio e quindi anche se anche nell'errore il Petrarca riesce a dar frutto alle sue iniziative vuol dire che nettamente non c'è storia Micheletto intanto porta avanti la palla e la perde Reggio Emilia la recupera con Farolini che fissa il punto palla a terra fuori dove Reggio prova a trovare spazio placcaggio a tagliare le gambe da parte di Rossi Francescato che cerca di far vivere la palla ma trova invece il corpo di Caminati e Reggio che quindi può ripartire apre tutto Gennari si riaccentra il trequarti ala del Reggio e fa vivere su Visaggi nuovo setup palla fuori per Devodier non molto dinamico ma sicuramente potente il numero 8 Reggiano Reggio che continua ad attaccare non ha comunque guadagnato un metro nelle ultime azioni rimane sempre all'interno della sua metà campo Reggio nuova fase per linee esterne accelerazione con Visaggi che si porta proprio sulla linea di centro campo palla che ruzzola indietro costretto a ripartire con il piano B il Reggio cambio di fronte nuovamente da parte della squadra in maglia bianca devo dire che con un sottomano serve Daupi ma non c'è qualità nell'avanzamento da parte del Reggio che fa tanto possesso senza riuscire ad avanzare Petrarca che si sta dimostrando molto attento ad occupare il campo e a togliere spazi Reggio che arriva a far vivere la palla fino all'ala c'è stato però un passaggio in avanti passaggio in avanti notato dal pubblico e successivamente segnalato dall'assistente Simone Boaretto di Rovigo qualche problema per Rossetto tutto a posto sembrerebbe le squadre che si apprestano a scendere in mischia ancora qualche secondo di preparazione poi le legature vedremo il Petrarca su propria introduzione come saprà gestire Reggio ha sicuramente un pack capace di reggere l'urto anche di mischie d'alta classifica Petrarca vincere e vinceremo l'introduzione di Francescato e Petrarca che avanza torna indietro però il pack tutto nero e arriva il fischio c'è stata una girata irregolare da parte del pacchetto di mischia Petrarchino sulla controspinta del Reggio che aveva accusato inizialmente l'ingaggio ma è riuscito poi a riportare indietro gli avversari costretti al fallo tornata dura quindi davanti per il Petrarca nonostante il largo vantaggio bellissimo il calcio intanto di Gennari che guadagna quasi 50 metri e potrebbe essere l'ultima l'ultima occasione del primo tempo per la squadra emiliana che deve recuperare uno svantaggio imponente a questo punto della gara vediamo come sceglierà di affrontare c'è un lancio storto intanto quindi pessima la gestione da parte del Reggio di questa ghiotta occasione per cercare almeno di riportarsi sotto e così si chiude il primo tempo sul punteggio di 35 a 7 e quindi pronostico al momento nettamente rispettato squadra negli spogliatoi qui a Padova per ricaricare le batterie pausa anche per quanto riguarda questa telecronaca Simone Varrotto vi dà il pronto a risentirci sempre qui su TheRegbyChannel.it tra una decina di minuti per il secondo tempo di Petrarca Padova con Adreggio qui dal centro sportivo Memo Geremia di Padova Bentornati in diretta dal centro sportivo Memo Geremia dove tra pochi minuti inizierà il secondo tempo di Petrarca Padova con Adreggio primi 40 minuti si sono chiusi sul punteggio di 35 a 7 per la formazione di casa formazione di casa che torna in campo con un cambio esce Micheletto e al suo posto entra Nostran Micheletto che oltre ad aver segnato una meta splendida propiziata da una magia del compagno Fadalti si è reso protagonista di 3-4 penetrazioni palla in mano davvero notevoli una bella mole di lavoro buona prova per Micheletto che era al rientro e che ha lasciato il posto a Nostran sicuramente un altro dei giocatori più in vista di questo Petrarca che riparte con il calcio di Nicora troppo lungo forse ci si è messo anche il vento che soffia proprio verso destra rispetto alla direzione di gioco del Petrarca e quindi si riprenderà con un con una mischia che di fatto sarà la prima azione del primo tempo c'è un cambio anche per il Conad Reggio al posto del numero 8 Alessandro Devodier entra il numero 21 Alessandro Regestro altro ventenne nella rosa emiliana buono stavolta il calcio di Nicora che fa avanzare i suoi fin sui 22 metri appena appena fuori lancio in fondo del Petrarca su Salvetti si forma il trenino che comincia ad avanzare nuova giocata sulla chiusa con Francescato che incrocia con Fadalti bellissimo tiene a distanza l'avversario con un frontino e si tuffa in meta ottima ottima l'iniziativa del Petrarca molto lucido Francescato a intravedere lo spazio in chiusa ripartire beffando la guardia e a incrociare con il compagno Fadalti che ha finalizzato in modo perfetto evitando un placaggio e tuffandosi oltre la linea davvero di qualità le soluzioni del Petrarca oggi in fase offensiva in fase realizzativa vedremo se Nicola riuscirà ad infilare anche questa trasformazione bella la traiettoria curva bene e supera l'asta e si infila nell'H la palla calciata da Nicola per il 42 a 7 al terzo minuto di gioco del secondo tempo Petrarca che cambia in prima linea fa entrare il tallonatore Delfino il pilone destro Irving al posto di Giovanni Marchetto e di Jody Rossetto quindi Vincenzo Delfino e Mark Irving pronti a dare il loro contributo Nostran recupera il volo e parte uscendo dal frontale palla fuori Nicola per Bellucco palla molto veloce molto guizzante calcio che rimbalza pasticcio di Farolini ma ci mette una pezza Caminati poi in qualche modo vediamo Torri che prova a risalire il campo palla di nuovo a Farolini braccato dal Petrarca palla dietro e calcio che esce dai 22 dove però arriva velocissimo Menito Ippolito che impatta il frontale e porta a terra la palla Francescato per Delfino prima percussione dell'incontro per il tallonatore di origini catanesi palla fuori Francescato per Nicola che serve e fa d'alti scavalca l'uomo Nostrana accelera e deposita proprio nell'angolino dentro l'area è la sesta meta del settima meta scusate del Petrarca settima meta del Petrarca al quinto minuto del secondo tempo un 1-2 micidiale se c'era ancora qualche dubbio il Petrarca l'ha fugato in soli 5 minuti realizzando la settima meta questa volta bella avanzata a sinistra frutto di pressione palla recuperata 2-3 percussioni e poi palla fuori dove fa d'alti con un salto di uomo ha servito a largo Nostrana perfetto perfetto Nicola oggi 7 su 7 con almeno tre trasformazioni davvero angolate il mancino il mancino neozelandese si conferma Cecchino dal piede pregiato Petrarca 49 con l'attoreggio 7 via 3 via 3 via 4 Petrarca che dunque raggiunge un punteggio esponenziale nei confronti del Reggio 49 a 7 nuovo cambio per il Petrarca nel frattempo esce Salvetti ed entra Saccardo Salvetti anche lui autore di una meta buona la prestazione anche in tush da parte del seconda linea del Petrarca alla seconda stagione qui a Padova Conforti portato a terra forse dopo essere stato cinturato al collo riparte Menito Ippolito che accelera sull'asse fa vivere la palla con Nostran a costa che serve Delfino bello il passaggio per Ragusi che raddrizza Petrarca che avanza bene ora è a costa ripartire palla in mano sull'asse del raggruppamento fuori gioco questa volta di Gennari batte subito veloce Francescato che converge verso i pali placato da Daupi Bellucco in veste di mediano con Nostran che serve Capitan Conforti c'è un però un in avanti sul servizio di Nostran Al sesto minuto la Conrad Reggio sostituisce numero 3 Celona con numero 18 Fiume e il numero 4 Risaci con numero 19 Mannato il Petrarca sostituisce il numero 5 Jacopo Salvetti con numero 23 Alberto Saccardo gioco fermo qui al centro Memo Petrarca e staff medico in campo per verificare le condizioni di Flammini che si rialza in questo momento gioco che può proseguire nel frattempo Reggio ha operato delle sostituzioni è entrato Fiume per Celona in prima linea e Mannato per Visagi fuori dunque il seconda linea sudafricano e dentro l'esperto giocatore di origine Beneventana che da anni è uno dei pilastri del Reggio introduzione questa volta il crollo sembra essere del Reggio che però conserva il possesso palla fuori e calcione di Brink palla che è uscita Meniti Polito l'ha ha rinunciato ad intervenire avendo visto che la palla era già uscita e nuovo avvicendamento questa volta tra le figlie del Petrarca esce Niccora autore di una prova perfetta dalla piazzola al suo posto il giovane Coppo talento del vivaio del Petrarca classe 98 che ha già dato prova di stare al passo con il campionato di eccellenza gli manca probabilmente un po' di fisicità ma considerata l'età i margini di miglioramento e di crescita anche da quel punto di vista sono sicuri vediamo intanto che il Reggio riesce ad avanzare Manghi che fissa il punto d'incontro dopo un primo setup con Paletta trattenuto alto questa volta il giocatore del Reggio che però riesce ad andare a terra vediamo Ragusi che con una capovolta si ritrova di là reagisce in modo non proprio ortodosso Petrarca che recupera l'ovale nel frattempo con Nostran e poi velocemente la palla viene portata fuori fino a Rossi dove comunque non c'è nessuna superiorità numerica il Petrarca è costretto a cambiare di nuovo fronte da Ragusi cambio di direzione da parte di Nostran Reggio fa buona guardia Petrarca costretto a scaricare al piede ma non è di certo buona l'esecuzione di Meniti Polito su cui c'è anche un placcaggio in ritardo e si scatena una rissa una rissa con colpi proibiti vediamo proprio Mannato colpire Targa e poi dei giocatori con vari vari mucchi a terra qualcun altro strattonato per il collo Saccardo e ci è sembrato che il giocatore autore della scorrettezza nei confronti di Meniti Polito da cui si sono accese le tutto questo parapiglia sia stato dell'acqua Matteo dell'acqua il numero 7 del Reggio Emilia vedremo cosa farà eccolo qui che chiama proprio lui ha chiamato a rapporto il numero 7 nessun dubbio suo il placcaggio in ritardo nei confronti di Meniti Polito e poi protagonista ovviamente delle risse che si sono susseguite ci sono anche altri giocatori richiamati vediamo anche Saccardo a fianco a Capitan Conforti Manghi che caccia gli altri giocatori a distanza e giusta Ramanzina da parte di Angelucci che salomonicamente dà un giallo per ciascuno fuori dell'acqua fuori Saccardo a calmarsi i bollenti spiriti c'è comunque il fallo su Meniti Polito quindi sostanzialmente dopo aver punito i due giocatori l'arbitro ha lasciato il vantaggio al Petrarca Meniti Polito sbaglia il calcio fuori seconda esecuzione discutibile Meniti Polito riceve la palla dopo qualche difficoltà calcio lungo stavolta i metri ci sono e si torna verso la linea di metà campo con lancio del Conad lancio sul primo uomo questa volta arriva Duprez la palla Mannato che scarica Torri c'è un avanzamento Daupi che passa la palla a Manghi tenuto in piedi il capitano Reggiano poi la palla esce di nuovo verso Torri che ha le sue difficoltà ad evitare la difesa dopo essere scivolato Reggio che torna indietro nella sua metà campo Belluco fa buona guardia su Duprez palla di nuovo fuori Paletta questa volta che cerca di rientrare ma trova l'opposizione di Targa sale sale la difesa Petrarchina Mannato bloccato Reggio prova a scaricare la palla al compagno che è di fianco al portatore di palla per togliere un po' di pressione ma è una tattica che non frutta quanto sperato il Petrarca rientra in possesso dell'ovale da Coppo arriva a Fadalti accelerazione bruciante del Biondo del Biondo tre quarti Petrarchino che serve di ritorno proprio Coppo meta del più giovane in campo Tommaso Coppo metta del Petrarca al tredicesimo minuto con Coppo palla recuperata dopo un buon lavoro di pressione difensiva spostata velocemente a largo fuori dal grosso della difesa reggiana e poi portato avanti con le gambe rapidissime di Fadalti che ha servito Coppo dopo aver fissato l'ultimo difensore e quindi con la trasformazione questa volta di Meniti Polito comoda da sotto i pali Petrarca sale a 56 a 7 punteggio si fa pesante per la squadra emiliana che purtroppo non è mai riuscita se non nel primo quarto d'ora di gioco a contenere le furiate in accelerazione da parte del Maglie Tuttonere Esce nel frattempo per il reggio anche Lanzano ed entra al suo posto Giacomo Sacca nuovo cambio in prima linea rimessa in gioco che viene recuperata da Nostran botta proprio sul neo entrato Sacca per presentarsi con Forti che scarica Meniti Polito Bellucco che apre il gioco a largo dove Ragusi però è costretto a rientrare fa d'alti fa vivere la palla che torna verso il centro del campo punto d'incontro con Irving e poi nuova sventagliata a largo a cercare lo spazio e le gambe di Rossi che fa partire la sua corsa devastante Nostran che fissa per Flammini in cespica proprio sui 5 metri in seconda linea Petrarchino ma non c'è nulla da fare sulla nuova ripartenza di Francescato che scarica Rossi ed è la nona meta del Petrarca incontenibile a questo punto meta del Petrarca con Rossi anche se vediamo che ci sono due giocatori Petrarchini a terra uno è Flammini e l'altro è Nostran sembra doloranti a una spalla entrambi ora vedremo di cosa si tratta se dovranno lasciare il campo o se potranno continuare questa partita partita già ampiamente decisa nel punteggio il Petrarca va verso il 63 a 7 che arriva in questo momento con la trasformazione di Menniti Polito quando siamo appena al diciassettesimo della ripresa sono ancora 23 minuti di gioco al diciassettesimo minuto del secondo tempo meta del numero 11 del Petrarca Simone Rossi trasforma Andrea Menniti Polito di tesora Petrarca 63 con la trugge 7 doppietta quindi per Simone Rossi Flamini pare dolorante zoppica vistosamente quindi il problema articolare ad un ginocchio o ad una caviglia Nostrani invece cammina bene ma vediamo che si tiene una spalla dunque si temono conseguenze di quel tipo Petrarca che dovrà far tornare in campo qualcuno dei giocatori già usciti anche se c'è un momento di dubbio vediamo cosa deciderà la panchina tutto nera in campo in questo momento ci sono solo 13 giocatori anzi 12 perché Saccardo è fuori per il giallo Nostran sembra poter rimanere in campo vediamo che torna verso i compagni per schierarsi fuori invece Flammini probabilmente il cambio con Sua è forzato nel senso è obbligatorio perché l'unico giocatore che non è entrato e quindi prima di far rientrare qualcuno a meno che non sia un prima linea bisogna prima usufruire dei cambi a disposizione Farolini pronto a far riprendere il gioco e Sua nell'inedito ruolo di seconda linea ecco la palla ricevuta da Delfino che carica dritto per dritto sposta l'avversario e supera il primo placcaggio palla a terra sui 22 palla sventagliata fuori da Benitti Polito verso Ragusi Ragusi braccato da tre avversari portato a terra da paletta palla fuori di nuovo per Irving palla veloce per Delfino che verticalizza nuovo punto d'incontro Petrarca che stavolta si libera della pressione al piede calcio lungo ricevuto da Gennari che torna subito alla carica sceglie il lato sinistro per attaccare la chiusa palla penetrante la parte del regio che ha fatto entrare anche Gatti al posto di Manghi avanzamento del regio per il Petrarca dall'altra parte era entrato anche Damiano Borean praccaggio probabilmente alto nei confronti del del portatore di palla del regio ma per l'arbitro non ci sono problemi sul successivo in avanti la squadra ospite perde il possesso vediamo che Jeremy Missoua si appresta a posizionarsi in terza linea allacciato a Capitan Conforti merita una foto speriamo che i fotografi presenti qui al centro sportivo Memo Geremia immortalino questo momento sicuramente inconsueto purtroppo l'uscita di Flamini ha costretto la panchina a inserire l'ultimo giocatore a disposizione che era appunto Jeremy Missoua mediano di mischia Samoano spinta del pacchetto del Petrarca viene placcato irregolarmente Francescato fa il giro il diretto avversario non si può e così il Petrarca può risalire il campo al piede Penaltouche conquistata a una decina di metri dai 22 siamo circa 30 metri dai pali Petrarca che sicuramente vorrà aumentare il margine immaginiamo che siano queste le consegne da parte di Cavinato rientra nel frattempo anche Saccardo e quindi Petrarca di nuovo in 15 lancio in fondo su uno stran palla fuori Beniti Polito Belluco incrocio poi Rossi che accelera e serve in offload ma è un tentativo che non va a buon fine Farolini riesce a recuperare aveva provato Fadalti a recuperare la palla in qualche modo Reggio riesce a salvare salvarsi con Azzini dovrà probabilmente ripartire con un pick and go così è stoppata la palla da Ragusi poi c'è un calcio un po' alla bene meglio da parte del Reggio che però è efficace Fadalti lo recupera dentro i 5 metri della Tush il Petrarca comunque sposta la palla e con Belluco trova un nuovo punto d'incontro sul lato sinistro si cambia di nuovo fronte Meniti Polito che cerca la penetrazione dopo aver cercato in vano un compagno da servire placaggio senza tanti complimenti nei confronti di Delfino Borean questa volta che fissa il gioco sua placato ma la la palla era in gioco non c'era la rack ha detto l'arbitro ricambia il favore Delfino proprio nei confronti di Duprez da cui aveva ricevuto il placaggio precedentemente perde la palla in avanti vistosamente Daupi sarà mischia per il Petrarca entra anche il numero 20 Freddo al posto del numero 6 Perrone l'ultimo cambio a disposizione di Roberto Manghi coach del Conad Conad Reggio sostituisce il numero 6 Perrone con il numero 20 Freddo Ecco che tutti si riposizionano vediamo che Cavinato ha ordinato uno spostamento rispetto alla mischia in cui sua aveva giocato terza linea flanker ora è sua giocare mediano di mischia Francescato è stato spostato all'ala e Rossi è stato messo in terza linea in virtù crediamo di un'altezza superiore rispetto agli altri tre quarti battaglia aspra davanti alla fine l'arbitro ravvisa un fallo del Reggio che ha cambiato asse di spinta sua batte velocemente per Conforti botta palla questa volta a Saccardo nuova palla per Rossi che segna anche da flanker seguendo la scia dei suoi compagni giocatore per tutte le stagioni questo Simone Rossi tris personale gli ha portato bene il titolo del Petrarca Rugby News Freccia Rossi e con questa meta si completa la tabellina del 7 non ci sono dubbi sulla trasformazione di Meniti Polito 70 a 7 per il Petrarca quando mancano ancora 15 minuti di gioco a Valanga non c'è proprio più barriera da parte del Conad giornata difficile per i colori del Reggio settimana sicuramente da segnare in nero per la società emiliana che ha perso uno dei suoi padri fondatori oviglio montanari settimana e oggi si trova sotto di brutto riparte Farolini e Micheletto che è rientrato in campo al posto di prosegue l'azione del Petrarca al piede con Francescato e Coppo che cercano di far vivere calciando lungo ci mette una pezza Farolini placato e portato a terra portate via le maglie tutto nere Reggio che ci mette una pezza c'è però paletta a terra i reggiani stanno giocando con un uomo in meno si è portato fuori dal campo probabilmente problemi di crampi per il secondo centro del Reggio placaggio a due su Sacca che comunque resiste e avanza Reggio che prova a far vivere la palla con Brink palla fuori per Farolini nuovo punto d'incontro per il Reggio che è costretto a tornare indietro pur mantenendo il possesso tenuto alto il portatore di palla tenuto alto Regestro ed è cambio di possesso nel frattempo non riuscivamo a capire per chi fosse rientrato Micheletto e quanto pare Ragusi il giocatore il trequarti che ha preso posto in panchina buona anche per lui la giornata con una bella meta in tuffo tanta quantità e anche qualità spinta poderosa stavolta del pack, tutto nero che parte, palla che arriva Francescato all'ala sinistra bello lo scambio in velocità in offload con Rossi poi Belluco raddrizza e avanza viene trattenuto alto non riesce ad andare a terra, vediamo in questo momento si gira la palla arriva a terra, tutto buono c'è anche il vantaggio c'è anche il vantaggio per il Petrarca sua che non riesce ad estrarre l'ovale per la trattenuta di Regestro a terra Petrarca va in tush si cerca la marcatura numero 11, vedremo se i tutto neri riusciranno a sfondare soluzione sull'ultimo uomo che avanza in modo imperioso meta di slancio con Damiano Borean che porta a terra l'ovale non c'è stato il minimo rallentamento da parte del carrettino tutto nero Nostrane è arrivato a terra già in fase avanzante i compagni si sono saldati con un carro armato meta numero 11 per il Petrarca con Borean il calcio ancora preciso di Menitti Polito e stavolta ci sono 3-7 sul tabellone 77-7 per il Petrarca con Adreggio duramente punita dalla squadra che occupa il secondo posto in classifica dovrà cercare su altri campi quei punti che mancano per garantirsi la permanenza nel massimo campionato di rugby italiano errore nel recupero della palla al volo da parte di Saccardo che commette in avanti ne approfitta Reggio per far vivere l'azione per linee esterne accelera paletta viene placato da Rossi pallone che può uscire avanzamento del Reggio che si trova all'altezza dei 40 metri fissa il gioco dell'acqua fuori per Farolini viene placato in modo tremendo Torri da Micheletto Petrarca che fa una contro-rack e Borean che passa a Meliti Polito ecco il calcio lungo fa d'alti che accelera c'è probabilmente una corsa ad ostacolare il biondo tre quarti ala Petrarchino ma va tutto bene per l'arbitro Angelucci e Reggio alla fine sparacchia fuori il pallone con Gennari Petrarca molto efficace con i calci a seguire oggi ricordiamo la meta propiziata da Fadalti quella creata da Bacchin per proprio per Fadalti e in altre due o tre occasioni ha messo in castigo la difesa reggiana con queste esplorazioni al piede lancio ancora in fondo finché va continuiamo così Petrarca che avanza c'è però la resistenza del pack Reggiano sua che riparte palla in mano Bellucco Veronica per lui guardie del Reggio a caccia del pallone e c'è stata la trattenuta arriva il fallo Mannato riparte battendo velocemente buona l'idea di Mannato che libera nello spazio libera nello spazio il compagno Gatti ben fermato a terra ma Reggio con questa iniziativa ha guadagnato quasi 50 metri buono comunque il placaggio di Coppo sul sull'avversario e il lavoro delle guardie del Petrarca è buono perché arriva il calcio Bellucco che riparte Nostran servito dal compagno avanzamento con Nostran che semina due avversari Chico Conforti che raddrizza vediamo sua palla fuori Menitti Polito calcio a largo brutto placaggio va tutto bene comunque dice c'è però una brutta reazione si riaccende una mischia e vediamo brutte scene brutte scene di cazzotti questo è rugby non pugilato purtroppo la cosa è sfuggita di mano dall'acqua cercato da tutti i Petrarchini è sempre stato lui il protagonista del placaggio su Menitti Polito che ha scatenato la nuova reazione Menitti Polito ha reagito con un calcetto e poi da lì c'è stato il parapiglia tutti contro tutti con momenti di guerriglia arrivano anche i Bu dalla tribuna qualcuno sicuramente si è fatto male vediamo un giocatore del Rezzo a terra con il medico a fianco qualche colpo deve essere andato anche a segno parere personale sono brutte scene soprattutto davanti a un 77 a 7 proprio non non c'è agonisticamente motivo per per certe reazioni se non la frustrazione immaginiamo in questo caso sia stata reciproca certo che dall'acqua un po' recidivo Menitti Polito già toccato duro ha reagito a sua volta è da lì vedremo cosa deciderà l'arbitro certo non sarà facile ricostruire nemmeno con un rewind tutte le fasi di questa diversione dalle regole del del rugby football del rugby union a consulto con l'assistente Boaretto l'arbitro Angelucci che sicuramente chiamerà i capitani e e qualcun altro immaginiamo dell'acqua si mette già a fianco del direttore di gara sarà difficile almeno non vedere esibito almeno un giallo che gli costerebbe il cartellino rosso l'espulsione a questo punto Rossetto convocato c'è anche Gennari vicino con parte la ramanzina di Angelucci che immagino ripeterà alcune delle parole che mi è toccato pronunciare poco fa ma non perché su un campo da rugby non si siano mai viste o non non sia neanche giusto ogni tanto vedere qualche scena sopra le righe ma perché in questo caso proprio non ce n'era il bisogno e la diagnosi era quella giusta c'è un doppio giallo doppio giallo per dell'acqua che quindi si accomoda in panchina finisce la sua partita così con un rosso con conseguente squalifica e giallo anche a Irving altro giocatore che si era distinto nel match di box non ufficiale a cui avete assistito pochi minuti fa tra l'altro viene anche da fare la battuta non sul punteggio di 777 non vogliamo immaginare cosa sarebbe successo sul punteggio di 666 la partita dalla tribuna stampa viene eletto il man of the match di questa giornata il numero 8 del Pedrarca Riccardo Micheletto come avete sentito come avete sentito dallo speaker Enrico Daniele il man of the match sarà Riccardo Micheletto giusta la decisione a mio avviso ha fatto un primo tempo splendido e poi rientrato in campo continuando a dare sostanza e qualità alla sua squadra certo c'erano vari candidati insomma Rossi 3 mete anche lui tanta qualità fa d'alti ha fatto dei numeri incredibili Nicola perfetto però giusto giusto Micheletto anche perché era rientro Petrarca che continua non si placca la sete di meta della squadra di casa Miniti Polito che avanza palla in mano portato a terra c'è un richiamo da parte dell'arbitro fallo di linea fuori gioco di linea segnalato all'altezza della metà campo si va in touch ed è la fine delle ostilità finisce così Petrarca Padova Conad Reggio punteggio finale 77 a 7 qui al centro sportivo Memo Geremia Petrarca che con i 5 punti conquistati sale a quota 58 mentre Reggio rimane a 23 punti a bocca asciutta partita quasi perfetta da parte della squadra di Cavinato che dopo aver tentennato un po' all'inizio subendo una meta da Reggio ha aperto i rubinetti ed è stata una pioggia pioggia di marcature di ogni tipo con 2-3 realizzazioni veramente spettacolari al limite dell'acrobatico d'altra parte ci sono stati anche un paio di momenti ai limiti del MMA arti marziali miste un po' di strada un paio di risse editabili forse ne ha fatto le spese dell'acqua poi si finisce comunque tra gli applausi rugby è così ci sarà tempo davanti magari a una birra un piatto di pasta asciutta per parlarne chiedere scuse o fornire le dovute spiegazioni per ora va benissimo così da Padova Simone Varrotto vi dà un cordiale benvenuto a risentirci alla prossima partita in diretta qui in streaming su the rugby channel punto it da Padova è tutto buona serata e buon weekend e buon weekend